Festa del ciclista del circuito di mountain bike di Palo Laziale alla Dispoli, organizzato dal Village Bike e al quale hanno preso parte alcuni team del territorio. È una staffetta che è composta da tutte le squadre che hanno aderito e si stanno divertendo da male. Quando si parla di sport alla Dispoli è sempre una bella giornata e questo grazie a quelle associazioni che permettono di vivere la bicicletta, la festa della bicicletta. La Dispoli, che vanta anche una pista ciclabile e che a breve ne prenderà un'altra, ha una visione della città a misura di uomo. Grandi e piccoli sono stati i protagonisti in una giornata piena di emozioni. Una gran bella giornata che tutti ci auguravamo prima o poi accadesse, in quanto riunire tutte le squadre locali. La mia è solo una delle tante. Tutti insieme, ragazzi giovani, meno giovani, per stare insieme, gareggiare in maniera goliardica, senza nessun tipo di stress agonistico e solamente cercare di contribuire alla crescita del movimento ciclistico locale. Adesso che anche le amministrazioni locali ci stanno dando una mano con progetti di piste ciclabili, di tutto ciò che da sempre abbiamo sperato. Quindi avanti così e speriamo il prossimo anno di essere ancora di più. È una giornata all'insegna dello sport, all'insegna dell'unione. Questo dimostra appunto che il ciclismo è libertà, ma soprattutto è aggregazione. Il ciclismo cresce, c'è un'unione di intenti e noi è qualche anno che abbiamo creato la consulta del biker. Ovvero siamo i gruppi di questa zona che ci riuniamo, decidiamo insieme quale attività fare, nel massimo della condivisione. Ci tenevamo molto a che benessero molti bambini anche che fanno parte di scuole di ciclismo per affacciarsi a questo mondo bellissimo, vivere nella natura. E quindi cerchiamo di promuovere questa giornata e di promuovere soprattutto in futuro con il comune.